Le dimissioni di Draghi e il conseguente scioglimento delle camere hanno mandato fuori giri la sinistra che si dice terrorizzata dal populismo quando invece lo è dal voto popolare. In realtà il principale responsabile politico della caduta del governo è il PD. Letta aveva un socio, il leader dei M5S, Conte, e l'ambizione dichiarata di cooptarlo in un campo largo progressista per le elezioni del 2023. Solo che ha passato l'ultimo anno a fiaccarlo e staccargli i pezzi di partito, stringendolo sempre più all'angolo, finché questi non è sbottato, votando contro il governo in sede di approvazione del termo valorizzatore di Roma, provvedimento fatto inserire forzosamente dal PD nel decreto aiuti e che M5S per ragioni identitarie non poteva accettare. Si è aperta così la crisi e, come raccontato perfino da Renzi, i dem hanno cercato di risolverla proponendo Draghi un governo con loro, i grillini e una parte di Forza Italia e forse pure della Lega, ma rigorosamente senza Salvini. Letta è andato a proporlo di persona, a tu per tu, a Draghi prima del suo discorso decisivo in Senato. A quel punto il centrodestra ha fiutato la trappola e si è staccato. Solo che, a differenza di quanto previsto dal PD, Berlusconi e Salvini sono riusciti a serrare le fila e il centrodestra ha perso solo i ministri azzurri, che di fatto erano già passato da un pezzo dall'altra parte. Grazie a tutti.